Ciao bambini, oggi siamo tu Simone e Pietro, ma ci sono due intruse, ma voi chi siete? Siamo, 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 e chi siete? Ah dai, tutti si conoscono! E tv per bambini, ma che cosa ci fate qui? Oh oh, lei è l'armata, è l'unica armata? Oh oh, oddio! Oh oh oh! On infiba, resti! Novi dovete nascondere, prozatti vittatemi come i soldati, via via, rispettatevi! Ah! Sì! ti hanno colpito è stato colpito è stato colpito è stato colpito è stato colpito l'ho spavata attento attento è stato colpito è stato colpito l'ho spavata tre volte ora faremo una guata vai simone vai Pietro vai Pietro vai Pietro vai 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 ai bambini sono state guardate non mi devi prendere 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 ahahahahahahahahahahah mi piace mi piace andate scrivermi quindi chi siete? Simone? Pietro Simone vieni qua oggi va pura sono troppo per giocare tutti insieme e dai sparano guardate che si costruisce anche allora questa è la trottolina in questione chi è che comincia vediamo se riescono vai si accende intanto e poi devi fare un sacco di forme al buio al buio poi è un'altra cosa è una macchina di farola vai farla girare visto che forte e adesso tirala ho capito così ecco va basti provate guardate in un cerchio in che altro modo si può andare secondo voi allora si sa un altro modo per spizzarlo a parte così così si va bambini aspettate se io faccio guardate sembra che fa un sacco di colori guardate provate attenta isa isa spostati vai via più veloce più veloce più veloce più veloce guardate guardate quanti colori hai visto? dai pure ora potremo giocare un gioco mi sembra che riesci a prenderlo io corro adesso io corro un po' veloce vedete che riesci da prenderlo allora allora hai lanciato da plastica hai lanciato da plastica allora chi vuole essere spavolata e chi vuole essere spavolata rossa io verde zalla verde rossa io verde zalla rossa allora se dico verde corrono Simone e Elisa se dico rossa corrono Simone e Petro e Nasti Petro e Nasti contro Simone e Elisa ok? rossi contro verdi e me diciamo io no no vedi rossi quali sono i piccolini i rossi i grandi quadra quadra rossa rossa lo prendi lo prendi e come fai adesso? di nuovo di nuovo di nuovo aperta yeah squadra rossa ma che cavolo ok questa volta ho vinto veramente Pietro squadra verde oh 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 eh ah ah ma siete che mi bastano eh ma siete che mi bastano ma siete che mi bastano ah la tua macchina squadra aspetta uno rossa e uno verde mi siete vai uno rossa e uno verde ah è lì ho vinto lo stesso ah sì allora ci sono un'altra sfida ah ma c'è un buon ah quello dopo ho vinto quello da basta io mi asso fare quello più veloce vinto è meglio da dietro stanno 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 La lì! La lì! Sì! Grazie.